Anche quest'anno abbiamo voluto riproporre fortemente la manifestazione legata ai festeggiamenti della giornata del mare proprio per sviluppare la cultura del mare come importante risorsa sociale, culturale, storica ma anche ricreativa ed economica. I ragazzi coinvolti di istituti scolastici di ogni ordine e grado si vedono impiegati in attività teorico-pratiche ma comunque dal carattere ludico che li fanno approcciare alle arti marinaresche e in generale al senso del rispetto dell'ambiente e del mare in particolare. Trovo appunto che abbia un valore formativo importante questa manifestazione proprio perché è importante educare e sensibilizzare tutti al rispetto dell'ambiente e del mare in particolare che tutti noi abbiamo il dovere di preservare. Ci accingiamo anche noi Guardia Costiera a prepararci alla prossima stagione estiva con uomini e mezzi impegnati nella futura operazione Mare Sicuro.